Ciao a tutti ragazzi, io sono Ornett e benvenuti al secondo episodio della Inerent Resolve Operation Zafar. Non vi tratterò molto perché siamo del bel mezzo di un ingaggio, se non avete visto il primo episodio vi consiglio ovviamente di andare a vederlo per capire come si è voluta questa Minisiem e direi che vi lascio direttamente al gameplay. Guarda se spingono gli altri. Ci stanno muovendo sulla sinistra! Ci abbiamo in fronte, in fronte! Ok ragazzi, dobbiamo andare un po' sulla destra. Eh, non so, non vorrei che ci fosse altra gente, capito? Sotto c'è andato più altra gente. Ah beh, comunque per forza eh! Siamo bassi! Ma però dove andiamo? Bisogna muoversi verso destra, ha messo l'osso in questa posizione. Ragazzi, io e tu ci muoviamo sulla destra. Sì, ok? Vieni! Ragazzi, io ci sono anch'io. Sì, vieni! Ok, vai! Sì, vieni! Guarda, io che non sono fritto! Sì, vieni! Sì, vieni! Sì, vieni! In questa fase dovevamo fare un'ispezione complettiva. del campo cercando le principali forze insurgente e pulendo appunto le aree occupate. In questo caso stiamo tornando al palazzo del governo dal momento che era diventata una delle basi principali delle forze insurgente. Andiamo giù di qua! Ragazzi, scegliamo di qua e andiamo al centro. Allora, vedo! Merda! Pian piano! Pian piano! Guardami sempre a sinistra e guardami sempre a destra. Stiamo qua nel lomba e non ci vedo. Sei giù, sei giù, sei giù verso destra. Non ti chiamino da destra. Ok, occhio che non chiamino il medico di là. Abbiamo due tango down, una sinistra di là. qui non chiamino il medico di là. Non ci vedo! Si! È vero! Non ci vedo! Non ci vedo! Non ci vedo! Non ci vedo! si allontana si allontana tango down tango down occhio a quello che si è colpito prima a tutta foxtrot attenzione stiamo in mezzo alle linee nemiche a occhio blu su blu torno giù e l'occhio destra perché abbiamo anche il sole pronto vai c'è un altro almeno c'è un altro sicuramente ok ottimo arriviamo alla casa da qua da qua da qua siamo coperti nemmeno con calma occhio che adesso della casa san vesco preso purtroppo nonostante l'efficacia del nostro salto non siamo riusciti a conquistare il palazzo del governo cazzo purtroppo in seguito questo attacco siamo dovuti andare ad un pma e poco dopo è calato il sole senza anche la fine della milsim ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto anche perché ho sparato davvero tanto per essere una milsim come avete visto e mi sono divertito veramente un bel po' sicuramente faremo altri eventi di questo circuito ragazzi noi ci vediamo alla prossima mission grazie 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 grazie